Al numero 24 Becker, non è abbonato a nessun giornale, tavolo di mogano lucidato con tovaglia di felpa, nessuna traccia di matita rossa, nessun oggetto per scrivere. Nel cestino per la carta, una reclam di sigari, una cartolina raffigurante un mazzo di fiori, cordiali saluti Paul, non c'è il mittente. Una scatola di sigarette vuota marca Ariston, una busta di dolciumi... Alt, alt... Un momento... Ariston... Ariston... Dove... dove l'ho visto scritto? Ariston... Per favore, la pratica dell'assassinio di Marga Pertan.